Si è svolta questa mattina l'udienza che dovrebbe portare alla dichiarazione di fallimento della ex Carichieti. Nel dettaglio l'obiettivo ruota intorno alla decisione di insolvenza per il vecchio istituto di credito e sul tavolo sono state presentate tutte le carte finora coperte da riservo. Davanti al giudice delegato Nicola Valletta si sono seduti l'attuale amministratore di Nuova Carichieti, Salvatore Immordino, e il commissario liquidatore Massimo Bigerna. Ad una prima stima non confermata si contano più di 800 milioni di deficit. Sotto questo profilo ci sta pensando lo Stato perché ha approvato questo decreto che prevede il rimborso se non totalmente ma in buona parte delle obbligazioni subordinate. Diciamo che questa è l'unica soluzione possibile perché la procedura della Carichieti, come dicevo prima, non ha assolutamente disponibilità, non ha assolutamente niente all'attivo e quindi non sarebbe in grado di procedere a nessun rimborso. Per le altre banche questo già è stato fatto e speriamo che anche il Tribunale di Chiedi proceda abbastanza velocemente in questo accertamento, anche perché i tempi sono importanti. Al centro dell'interesse resta il destino dei correntisti che hanno perso tutti i loro risparmi. Se verrà confermata la dichiarazione di Stato di insolvenza, seguirà l'apertura del fascicolo per bancarotta fraudolenta da parte della Procura di Chiedi. E da qui anche la questione della irresponsabilità degli ex amministratori dell'Istituto di Credito. Poi si apriranno tutte le azioni civili e penali tese ad accertare quale siano state le vere cause di questo dissesto e naturalmente ad ossare le responsabilità a coloro che le hanno determinate.